Dal cuore dell'uomo rinnovato secondo Dio provengono i comportamenti buoni, parlare sempre con verità ed evitare ogni menzogna, non rubare ma piuttosto condividere quanto si possiede con gli altri, specialmente con chi è nel bisogno, non cedere all'ira, rancore alla vendetta, ma essere miti, magnanimi, pronti al perdono, non cadere nella maldicenza che rovina la buona fama delle persone, ma guardare maggiormente al lato positivo di ognuno. Si tratta di rivestirci dell'uomo nuovo con questi atteggiamenti nuovi. Lo ha ribadito Papa Francesco nella celebrazione penitenziale per l'esperienza delle 24 ore per il Signore, fatta propria da tante diocesi nel mondo. E con Dio rimaniamo nell'amore, ha detto ancora il Papa. Nella misura in cui i cristiani vivono questo amore diventano nel mondo discepoli credibili di Cristo e chi sperimenta la misericordia divina è spinto a farsi artefice di misericordia tra gli ultimi e i poveri. Grazie a tutti.